Alla vigilia del 170esimo anniversario della Polizia di Stato che ricorre domani 12 aprile, la Questura di Pesaro Urbino ha presentato il report dei numeri di attività svolta dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022. Numeri in linea allo scorso anno per quanto riguarda omicidi e furti, mentre c'è un incremento di criminalità giovanile. Noi eravamo preoccupati che con la maggiore mobilità ci fossero un aumento esponenziale. In realtà i numeri sono più o meno simili a quelli dell'anno precedente. E quindi questo ci ha fatto sperare, siamo ben contenti che ci sia stata questa stasi nell'aumento dei reati. Aumenti significativi non ce ne sono stati, qualche furto in più, ma i furti in appartamento sono ridotti, qualche rapina in più, ma di piccolo spessore. Sono aumentati invece i reati di genere, i reati informatici soprattutto perché stando più in casa. E poi preoccupante è il dato sulla violenza minorile. Minorile, l'ultimo anno in particolare i ragazzi minorenni sono stati protagonisti responsabili di episodi incresciosi. Incresciosi, spesso dettati a loro immaturità ma anche da una maggiore aggressività. Forse dovuta anche alla chiusura della determinata pandemia, però in effetti l'ultimo anno è stato abbastanza preoccupante per questo tipo di comportamento dei ragazzi. Ad aggiungersi alla lunga lista, nell'ultimo mese e mezzo anche la gestione del notevole flusso migratorio ucraino in fuga dalla guerra. C'è stato un aumento esponenziale nei primi giorni. Adesso il numero dei prove che si è stabilizzato, siamo oltre mille, mille e cento, ma un leggero aumento quotidiano. Più facilmente gestibili adesso. Più della metà sono quasi tutti minorenni, minorenni di cui soltanto un 40-45 sono non accompagnati. La maggior parte sono minorenni con genitori, con la madre in particolare o con familiari che si assumono responsabilità. C'è stata una grande attenzione da parte della prefettura, della procura minorenni e quindi vengono gestiti con oculatezza e soglierità.